ottimo 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 ok pronti pronti ciao max buongiorno ace com'è buongiorno 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 allora che cos'è questo video qua che sembra stranissimo molti di voi è un layout un po particolare questo è la puntata pilota di quello che dovrebbe essere il brave podcast è un podcast per tenervi compagnia non so esattamente quando lo farò uscire per adesso è una prova proprio per vedere anche cosa ne pensate voi e insomma feedback sotto che è sempre figo da avere il nostro primo ospite è il signor max che vedete alla mia destra ciao max di berrofronzo ola 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 qui come è solito il signor max che come da te notte fonda immagino perché da me sono le quattro pomeriggio da me è quasi l'alba veramente sono le 6 e 26 in questo momento da me sono le quattro pomeriggio lui in italia se non sapete ancora sono in australia da un po e ci conosciamo da poi e tra l'altro non voglio neanche capire gli anni cosa sarà quelli da anni si più e più o meno si dai 15 anni sì 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 perché era le le medie abbiamo fatto abbiamo fatto le medie insieme quindi si non è di quanti anni siamo penso tanti 10 15 si è una roba così molto sicuri molto probabilmente voi lo conoscete da un bel po perché insomma sul mio canale l'avete visto un bel po di volte ha un canale che si chiama berrofronzo lo trovate comunque qua in descrizione che cos'è questo brave podcast sono proprio quattro chiacchiere per adesso su che cosa hai fatto questa settimana più o meno che sia un appuntamento potrebbe essere settimanale ospiti a caso per adesso non c'è niente di 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 scritto insomma è come viene viene ed è molto blando quindi giusto fare due chiacchiere così cosa hai giocato di bello questa settimana max cosa ho giocato di bello questa settimana questa settimana la novità è che mi sono rimesso a giocare a minecraft nel senso che era da anni che non c'è no da anni ma da sei mesi almeno che non riprendevo minecraft ho fatto qualche partita league of legends ho riattivato l'account di world of warcraft mi sono fatto la rissa su airstone ho fatto le daily su due list e penso basta tipo un po di un po di giochi che sono interessanti mi parlavi di questo due list sì è tipo un gioco è un gioco che è venuto fuori da pochissimo infatti tipo se tu ci vai hai ancora il coso in in beta ha alcune caratteristiche di airstone nel senso che te c'hai tipo il mazzo di carta e vocabili con le magie gli artefatti tutte quelle cagate lì è l'unica differenza che anziché essere su un campo di battaglia dove la posizione insomma è strategica rilevante è solamente se metti una creatura a destra o sinistra di super un'altra invece su questo due le stai una vera e propria scacchiera che non mi ricordo neanche di quanto è per quanto è ma tipo azzardo un 7x7 dove dove c'è praticamente un eroe principale che ha di solito due punti di attacco e 25 di salute morto quello o morto l'avversario si decreta il vincitore e ovviamente tu hai della tua tutto quanto un set di magie che tu poi poi sparacchiare o di creature da evocare hanno tipo dentro il campo di battaglia ci sono tre orb che praticamente se tu li raggiungi con il tuo eroe o con una creatura ti danno un mano aggiuntivo ed è la è sbilanciato verso verso destra perché praticamente chi a sinistra inizia per primo e chi a destra inizia per secondo e quindi quella è ribilanciare la cosa si è tipo la moneta diciamo così di questo gioco qua ci sono solamente sei razze anziché nove quante ce ne sono su su earthstone ed è una roba abbastanza divertente la sta seguendo tra l'altro viking che non so se conosci per gli streaming su earthstone è uno streamer italiano molto 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 bravo molto molto competente che si è specializzato in arene per lo più però è veramente bravo penso sia uno di quelli con più follower in italia tra l'altro che lo sta seguendo l'ha introdotto in italia anche perché lui si occupa della della traduzione proprio di questo gioco e quindi a breve lo vedremo addirittura anche in italiano se non addirittura già è già adesso in italiano ma ma questo sto vedendo sto vedendo sto facendo vedere un po del di un video fatto da mmo hats che è il primo che ho trovato su su youtube che non è niente male in effetti una griglia 9 per 9 per 7 9 per 5 è un po rettangolare come cosa però effettivamente è abbastanza carina come come cosa magari dipende anche dal campo da gioco perché ho visto che ci sono campi da gioco un po diversi uno dall'altro quindi è un strategico a turni c'è uno strategico a turni c'è un po di earthstone c'è un po di grafica devo dire abbastanza interessante lo stile grafico che ne ho adottato anche sì è proprio quello la diciamo così vecchio stile con i pixeloni infatti alcuni l'hanno anche criticata perché dicono che è troppo statica però effettivamente non puoi riempirlo di cose grafiche tremende anche perché è un gioco come abbiamo detto molto in a stadi a stadi come si dice non so embrionali potremmo chiamarli ok che ancora in la versione la 0.55 cioè però per essere per essere per essere così in alfa eccetera devo dire che comunque è abbastanza rifinito di sì sì ma infatti è ben fatto io mi diverto tantissimo tra l'altro la figata è che ha delle meccaniche di gioco un po differenti perché anziché pescare una carta per turno come succede in earthstone in quasi la totalità dei giochi di carte tu peschi due carte per turno la tua mano è limitata a 6 anziché a 10 e in più hai la possibilità di fare una specie di mulligan ogni turno cioè ogni turno tu hai una qualcosa che non ti serve lo bruci lo butti e ti tiene fuori un'altra carta e in maniera tale da aggiustarti la mano man mano che vai avanti sì strizza un po l'occhio sai cosa mi ha ricordato parte il scrolls che io però non ho mai giocato mi ha ricordato anche quello della della mojang e della scrolls se te lo ricordi sì 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 oddio è tanto vecchio che non me lo ricordo però sì più o meno più o meno questa cosa qua somiglia un po a c'è un sottogenere di giochi in cui c'erano le file se ti ricordi più o meno in cui tu avevi le varie persone c'erano le file qui però è un pochino più più studiato perché proprio muovi il tuo personaggio e gli fai fare sì è abbastanza interessante soprattutto perché tra l'altro mi hanno dato mi hanno dato la come si chiama la promozione adesso sto guardando per il mese di dicembre ho dato più 10 spirit più 90 gold e una carta epica solamente per essere arrivato a livello 20 che è praticamente il silver va bene è un pay to win oppure per adesso tutto gratis allora e tu puoi pagare per i come cazzo si dice poi per prendere i pacchetti come in qualunque altro gioco però i ci sono molte differenze uno perché in questo gioco prendere pacchetti è molto 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 più velocemente rispetto a derston nel senso che tu ti danno pacchetti praticamente per qualunque cosa arrivi all'undicesimo livello ti danno un pacchetto fai tipo quattro vittorie di seguito ti danno che è la cosa che arston non faceva adesso ha cominciato a fare dandoti un po' di pacchetti però in questo gioco ci sono anche tipo le first win of the day per esempio ogni volta che ne vinci arrivano 25 gold in più e quindi ci sono tantissimi modi diversi per prendere gold e oltretutto praticamente le bustine hanno un rate o di di epiche di leggendarie che è immensamente più alto rispetto a quello di arston tipo io non era non è non dico che sia comunissimo però tipo a me è capitato di aprire un pacchetto e trovarci dentro due leggendarie una epica e due comuni per esempio e non è e non è un caso tipo rarissimo eccezionale perché tu ne trovi tipo una ogni quattro pacchetti credo di leggendari è una cosa di questo tipo qua pesano in maniera diversa però craftarsene per esempio costa 900 polveri anziché 1600 come in arston e hai il limite di tre leggendarie cioè tu puoi prendere praticamente la stessa leggendaria e metterla in tre copie più simile a magic in questo senso più simile a magic esatto su questa cosa magic ovviamente che è stata una grossa ispirazione per arston io ho sempre visto come arston è la versione veloce di magic perché magic è lentissimo a confronto oltretto che la qualità di caratteristica smisurata e permette praticamente mille comibili panate qui invece considerato che su arston c'è la come si dice c'è un gioco elettronico se una carta è troppo sbroccata anziché bannarla la puoi pensare come hanno modificato la cosa si chiamava quella la il warzone commander esatto warzone commander che hanno la cantaguerra l'hanno modificata distruggendo completamente carta perché il patron però il grimpato una volta continua a essere utilizzato la roba figa che adesso dicono si hanno anche modificato il come si chiama il cavaliere quello dei segreti 666 quello del paladino esattamente che ha detto che l'hanno modificato perché adesso l'hanno nerfato e adesso i tuoi segreti hanno più uno di attacco come assolutamente senso i tuoi segreti hanno più di attacco i tuoi segreti con carica hanno più uno di attacco ok ok ecco hanno fatto la trollata però allora aspetta per la sesione di gennaio stiamo mettendo 4 nuove carte boh vabbè leggeremo dopo sì sì allora ci darò un'occhiatina perché effettivamente mi ispira molto poi c'è ci sono tanti giochi ultimamente che saltano fuori con con questo stile retro pixel art ovunque devo dire che ci sta ma soprattutto per le meccaniche questo sembra molto interessante adesso guarda ho comprato adesso un orb ti dico in anteprima che cazzo trovo che così ti aiuto allora ho trovato due comuni due rare e un'epica dentro un pacchetto così a random vabbè dai quindi non sarà tanto ma due rare e un'epica è un pochino più gratificante anche da questo punto di vista magari poi molto molto di più ma proprio farsi la collezione completa è decisamente molto 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 più facile oltre il fatto che c'è gente che è arrivata tipo a rank di leggenda con pacchetti che non hanno neanche una leggendaria cioè tu ti puoi fare un mazzo chip e utilizzare le sue meccaniche per arrivare molto velocemente anche a livelli molto alti tra l'altro viking che è questo tizio di cui ti ho parlato prima ha avuto un problema diverso nel senso che lui ha ha fatto le partite quelle là che tu ti fai all'inizio con le razze per poter sbloccare tutte quante le carte base no esattamente come nerson l'unica cosa che non perdeva mai quindi alla terza razza lui è arrivato tipo ai rank platino c'era la gente con sto mazzi pieni di leggendari lui doveva ancora sbloccarsi le carte base con la quarta razza e non sapeva come fare ed era un attimo incartato non capito beh dai songai ci sono ci sono ci sono un po di cosucce varie mi parlavi di dimmi scusa no no niente che se volevi aggiungermi a friend is no chaser left mi ero che cazzo è successo mi è arrivata un'altra ricompensa assolutamente a caso per non si sa che cosa più cento spiriti un orb e un emoticon grazie ma perché non ho capito c'è ok un altro pacchetto a caso perché 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 stai parlando bene del gioco ho trovato una leggendaria e quattro comuni cazzo che figa quella della della songai bellissima è una carta leggendaria che tipo vabbè per quattro mana ti permette di pescare tre spell dal tuo deck che forti assi tra l'altro questo gioco è bilanciato in maniera opposta rispetto adesso non c'è invece che avere tantissime carte alcune molto forti alcune che fanno totalmente cagare qui tutte le carte sono rotte cioè tutto il gioco è completamente broken e ci sono ancora più broken qui tanto buttiamola e poi vedremo di sistemare eventualmente così e no volevo dirti che se avevi già scaricato il gioco che tra l'altro anche abbastanza piccolino come dimensioni sono 50 mega la fine l'ho scaricato però non l'ho ancora installato ok se ti se volevi comunque dovresti trovarmi easy perché mi chiamo berrofronzo quindi per cui così ci si fa una partita se vuoi presentare sul tuo canale volentieri 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 e poi mi tu mi asfalti perché io sarò la prima partita che farò tipo quello è normale però se vuoi giocare più mazzo base che così non abbiamo problemi ah sì sì perché io non ho assolutamente farmato come un animale sul tuo gioco esatto a proposito di farmato parlate di minecraft come mai hai ripreso minecraft c'è qualcosa che devi dirci ho ripreso cosa c'è qualcosa che devi dirci riguardo a una serie no allora molto semplicemente per un sacco di tempo sono stato senza perché a me minecraft aveva veramente trifolato le palle nel senso che tutti quanti fanno minecraft è troppo bello fare minecraft ai minecraft mi era venuta nausea e quindi basta mi ero chiuso su world of warcraft e basta solo che adesso mi sono messo a collaborare con alcune persone che hanno una perizia tecnica abbastanza elevata legge il signor black avatar che è uno dei tanti collaboratori e questi qua hanno detto facciamo un pacchetto con cui tra l'altro lui sta già giocando con altri amici suoi con blue blue pyro shock con zeta liner comunque altra gente sempre di questo gruppetto qua e lui ha fatto il nuovo pacchetto di quella che sarà la nuova serie della della geek battery che adesso praticamente sto testando sul sul mio canale ho fatto tipo l'episodio di presentazione e tipo uno o due episodi nei quali dico il pacchetto è fatto così e lo testo adesso sto testando una mod che c'è dentro che si chiama chromaticraft che è tutta quanta basata sui colori e ci sono tipo foreste piene di alberi frocissimi di tutti quanti colori quindi cosa gli alberi frocissimi mamma mia ragazzi sono sti piselli pieni di colori per quanto adesso non so esattamente come sia il panorama italiano a riguardo intanto io ho finito il video quindi devo vedere vado vado a vedere uno dei tuoi video di minecraft vediamo va bene così intanto ne parliamo visto che stiamo parlando di questo mi viene sempre quello di della mutan creeper tra l'altro che tipo il tuo video più visto in assoluto cosa si che non ho neanche del perché nel senso che c'è diciamo questa è un video un po più vecchiotto credo random power reloaded secoli fa penso che c'eri ancora tu tipo ah sì sì no questa è una delle prove delle prove è una delle prove per il primo del pacchetto è vero è vero era quando hai detto la gente si sente forse direttore o quel periodo la era no quello la era ancora tmp1 quando mi sono comprato il cose ho installato windows 7 ok questo questo video questo video parte con te che lanci un uovo 1 e trovi una gallina un gallo subito vabbè comunque l'ultimamente dicevo su panorama italiano minecraft lo stanno trattando abbastanza di meno mi sembra almeno ci sono tanti che lo stanno abbandonando un pochino nonostante il gioco venga aggiornato sempre di più ma soprattutto mod che escono in continuazione che si si prendono si modificano tra di loro si in compenso sono video sempre più di merda su qualunque tipo di videogioco vada per la maggiore se c'è il gioco esplosivo tipo esce il nuovo gioco fai tipo per un mese che tutti quanti fanno video solamente su quello dimenticato e avanti così a mangiare ci sono stati un paio in effetti si ti do ragione magari possiamo parlare anche di questo per dirti uno uno che che è stato trattato così ultimamente keep talking nobody explodes che quello delle bombe che sì ma però la c'è nel senso quella è piccolino ma tipo quando viene fuori non so il nuovo gta è nuovo esatto la gente tipo se lo divora e fa 12 video solamente su quello e ma streaming su quello proprio il gioco viene immediatamente spolpato però nonostante minecraft stia venendo un poco snobbato alla lunga è comunque tipo il video più visto nell'intera rete ma tipo che stacca di di non so se si continua continua per cento il secondo la cosa di questo continua essere più più visto sicuramente è il forse il come si dice il contenuto che vai a proporre che che dovrebbe essere cioè come si dice chi realizza il gameplay o comunque chi realizza il video comincia a non avere più le idee per poterci ma è normale anche quel gioco la insomma cose illimitate ma poi finisco anche quelle sì 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 appunto idee ce ne sono per dirti io c'è un uno dei pochissimi ragazzi che seguo che fa ancora minecraft che è ito che forse molti conosceranno perché molto famoso a livello mondiale che ha una serie ed è intorno ai 400 episodi per dirti adesso di un'unica serie e c'ha sempre lui è bravissimo con redstone costruisce c'ha sempre idee nuove e effettivamente c'è complimentoni ma è bravo lui capito è la è la persona che riesce a portare avanti il gioco non so non è solo il il gioco essere figo c'hai mezzo cuore nel video tra l'altro ti è appena esploso un creeper a fianco c'è un Icky qua? no c'è caso di Icky chi è questo? no questo è il super bus ok addirittura madonna eh sì sì quindi abbiamo la geek battery che sta che sta ritornando in pompa magna benone senza un po di gente tossica con molta gente nuova bene come al solito bene bene adesso abbiamo un tizio che si chiama Marco Bervigliero ed è giusto che gli faccia pubblicità perché è un genio che è un tizio che mi fa le grafiche delle copertine di tutti quanti i giochi da un po' di tempo a questa parte e le fa con una velocità incredibile con una perizia tecnica impressionante e tra l'altro tipo super divertenti o cioè a me piacciono tantissimo ogni volta una sul mio canale avrete visto che è quella che il video che abbiamo fatto insieme di Starcraft che è bellissimo secondo me ah sì sì quella l'ha fatta Marco Bervigliero lui tipo ma tu contattalo cioè un utente X che lo trovi su internet non ha un artwork non ha lavori e cazzi vari tipo per me non ha detto il giorno in cui tu mi pagherai un video io me ne andrò offeso dico beh beh allora non faccio niente e adesso tra l'altro stiamo stiamo in chat con lui su whatsapp per tipo inventare il logo del canale per esempio eccetera eccetera ma è una persona incredibile cioè spesso che siano contati ti dice ma è proprio disponibile con te eccetera eccetera adesso ho avuto un rallentamento con le sue cose perché tipo si è rotto il braccio destro e allora chiaramente con il mouse è un po' di difficoltà è un pochino più difficile però per il resto è un genio cioè metà della geek che semplicemente da quando la scopo complimentore sì 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 l'ha contattato boh boh si ti faccio anche a te le copertine e si metterà e fa beh bravissimo veramente a me diverte tantissimo proprio anche il suo stile però non ha un pagino di facebook non ha niente semplicemente un utente che fa queste robe fichissime quando uno si diverte a fare le cose non cerca allora grazie cazzo devo dire esatto grazie grazie le grafiche che hai sono molto molto belle tra l'altro tutto è un po' di sue e si vede anche che sono dello stesso stile diciamo una con l'altra sì 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 è un'altra cosa molto bella secondo me e cosa hai ascoltato ultimamente di musica cosa ti stai ascoltando a parte immagini in moto red guarda no quelli poco nel senso che se no mi vengono la nausea allora ultimamente ho scoperto un video un gruppo che a me piace molto dal punto di vista musicale ma è vivamente inguardabile è tipo che a tutti quanti i membri che sono truccati quei vestiti strapati i lordi no 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 ma figura non truccati tipo mostri truccati tipo froci ok gente inguardabile da quel punto di vista tipo i come cazzo si chiama è presente il cantante dei come si chiama dei Tokyo Hotel sì ecco tipo 20 volte peggio misto a emo punk metallaro tutto quanto questi tizi si chiamano Black Veiled Brides te lo scrivo qua su come cazzo si chiama su Skype vediamo se riesco a trovare un video che hanno un ottimo stile a me piacciono veramente tanto 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 dal punto di vista musicale però sono visivamente inguardabili sì concordo e anche ma ti dico la voce è bella profonda cavernosa tonante eccetera eccetera non ve la farò ascoltare per evitare ban del video subito ma vi faccio vedere comunque però però nel momento insomma puoi mettere un video tipo il nome qualunque la gente la può ascoltare e come cazzo si dice anche tipo tecnicamente sono bravi con la batteria con la chitarra sono bravi non sono degli artisti pop però fan cacare dal punto di vista visivo non c'è cazzo a fare cioè sono orribili e quindi va bene ah in più ovviamente ho scoperto i come cazzo si chiamano i i lady baby che non so se presenti chi sono si ho presente si 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 sono un gruppo corean pop inguardabile dove ci sono due ragazzette tipo di 14 e 18 anni che sono vestite tipo con quei vestitini del cazzo giapponesi e in mezzo a loro c'è un cantante death metal grossissimo esperto di arti marziali che fa wrestling e quel personaggio lì che si chiama lady beard esatto si infatti te ne avevo parlato perché ha partecipato a un cotto e frullato no ha un epico tempo di mangiare in realtà ma veramente si perché lui è un è un ragazzo che fa wrestling in america aspetta che aspetta che ti trovo il video di è australiano è australiano tra l'altro però si però vive vive là aspetta epico tempo e forse dovrei trovare lady beard lo troviamo si esatto che ha fatto il godzilla onigiri ha fatto un onigiri gigante insieme al signor esatto c'è gente che urla adesso in sottofondo ma non lo vedrete comunque questo personaggino che adesso nell'immagine è sulla sinistra è quello di cui stai parlando che adesso ha questo gruppo con queste due ragazzine c'è una voce un pochino potente esatto sbraita mentre quelle altre fanno le minchiette giapponesine comunque visivamente è proprio qualunque cosa ci si possa essere di sbagliato ed è per questo che lo adoro tu l'avevi sentito a proposito di gruppi che io me lo sono ascoltato un po' meglio ultimamente sono le baby metal addio no se non me le nominare è quella roba lì che mi fa un paura baby metal ho presente di chi parli baby metal è un gruppo un gruppo metal con tre cantanti donne che sono 14 anni giapponesi si e non c'è nient'altro da dire esatto non c'è nient'altro da dire che assomigliano un pochino come stile assomigliano un po' black metal c'è gente che è bright d'accordo che assomiglia un pochino di più a come si chiama quelli di detroit metal city credo si chiami se te li ricordi ultimamente mi stavo ascoltando questi io quindi giusto per vedere fino a che punto riescono ad arrivare che ci stanno però hanno delle belle coreografie c'è poco da fare questo si molto molto visive molto bla credo che tra poco tipo vado perché vuoi che facciamo un rap della situazione insomma chiudiamo i primi episodi insomma ditemi anche voi cosa ne avete pensato ci siamo fatti 25 minuti da niente di una mezz'oretta più o meno di chiacchierata così libera libera ovviamente domande cose del genere lasciate pure lasciatemi tutto il feedback che volete perché questa è ancora molto blanda come cosa è proprio un episodio pilota sapete quanti episodi pilota di serie esistono e poi che fine fa la serie dopo che viene approvata o non approvata o modificata e rimodificata grazie ancora a max io vi lascio come al solito il link qua sotto in descrizione io sono Aiste Brain grazie a te per l'ospitata ci sentiamo ciao ragazzi grazie a te per l'ospitata